Parliamo con il nostro capitano, vediamo di chiarirci sulle situazioni. Gli chiederete anche un po' conto della situazione delle elezioni? Sì, sicuramente. Dobbiamo chiarirci. Quali sono i punti principali da chiarire? I punti principali ce ne saranno tanti. E' disponibile a chiarirli e vediamo. Chiederete il congresso regionale prima possibile? Ci sarà il congresso regionale, non so dirti quando, prima ci saranno. Ci si è dimenticati del Nord in queste elezioni? No, dai, sì. Il Nord per noi è importante, dobbiamo puntare l'autonomia e gli chiederemo l'autonomia. E perché Bossi ha fatto questo comitato per il Nord? Da quello che si sa, insomma, il partito è unito, completamente unito. Puntiamo l'autonomia a chi vuole partecipare, partecipi perché vuole stare fuori. Senza autonomia? La cosa principale. La cosa principale. Chi vuole stare con Sardini sta con Sardini e chi non vuole. Ma senza autonomia si esce dal governo? Sicuramente. L'autonomia è la cosa principale. Grazie. Grazie.